gli uomini col vestito della festa sostavano davanti alla porta della fattoria il sole di maggio versava la sua luce chiara sui meli già col germoglio rotondi come immensi mazzi bianchi e rosa e profumati un vero tetto di fiori su tutta l'aia spargevano in continuazione là intorno una neve di piccoli petali che volteggiavano turbinando sull'erba alta dove le radichelle brillavano come fiamme e i papaveri parevano gocce di sangue una scrofa sonnecchiava al margine dell'etamaio con un ventre enorme le mammelle gonfie mentre le girava intorno un branco di porcelli con la coda ritorta come una corda improvviso laggiù dietro gli alberi delle fattorie risuonò la campana della chiesa quella voce metallica lanciava nel cielo sereno il suo richiamo debole e lontano le rondini passavano come frezze nello spazio azzurro chiuso tra alti faggi immobili a volte alleggiava un sentore di stallatico confuso col profumo dolce e zuccherino dei meli uno degli uomini che erano fermi davanti al lucio si volse verso la casa e gridò avanti avanti melin sta già suonando avrà avuto 30 anni un contadino alto non ancora ricurvo né deformato dalle lunghe fatiche dei campi un vecchio suo padre nodoso come un tronco di persa con polsi gibbosi e gambe arcuate affermò le donne non sono ancora pronte tanto per cambiare gli altri due figli del vecchio scoppiarono a ridere e uno di loro rivolgendosi al maggiore che aveva chiamato per primo gli disse voglia cercare polit o quelle non vengono prima di mezzogiorno e il giovanotto entrò nella casa la schiera di anetre ferme vicino ai contadini si mise a schiamazzare sbattendo le ali poi con la loro andatura lenta ed ondolante si spostarono verso lo stagno sull'uscio rimasto aperto fece la sua comparsa una donnona che sorreggeva un piccino di due mesi i nastri bianchi dell'alta cuffia le pensolavano sulla schiena sopra uno scialle scarlatto vivido come un incendio l'infante avvoltolato in fasce candide di lino poggiava sulla pancia prominente della donna dopo di lei uscì la madre una diciottenne alta e forte fresca e sorridente al braccio del marito seguivano due nonne grinzose come due mele vecchie mostrando quanto erano stanche e indurite dalla fatica piegate da tempo a causa delle rudie pazienti opere una di esse era vedova l'altra prese il braccio del nonno rimasto davanti alla porta e tutti e due aprirono il corteo seguivano i piccoli e la levatrice e poi il resto della famiglia i più giovani recavano sacchettini di carta traforata pieni di confetti la campanella suonava senza sosta in lontananza chiamando vivacemente il pargolo atteso i monelli scavalcavano i fossi altra gente si affacciava ai cancelli mentre le serve stavano in piedi tra i secchi del latte poggiati a terra per osservare quel battesimo trionfante la levatrice sollevava quel fagottino vivente stando bene attenta a evitare le pozzanghere del viottolo campagnolo infossato tra due prode alberate i vecchi camminavano tutti sussiegosi un po di traverso per via dell'età e dei reumatismi i giovani avevano voglia di ballare e si mangiavano con gli occhi le ragazze a corsa al loro passaggio il padre e la madre procedevano con maggior serietà dietro a quel lesserino che avrebbe poi preso il loro posto nella vita e avrebbe continuato a impaese il loro nome il nome dei dentù che tutti conoscevano nel distretto arrivarono al pianolo e presero la scorciatoia attraverso i campi per evitare il giro lungo che faceva la strada adesso si poteva vedere la chiesa col campanile a guzzo attraversato da un'apertura proprio sotto il tetto di ardesia di dentro qualcosa si agitava con moto rapido passando e ripassando nella stretta finestra era la piccola campana che continuava a suonare gridando al neonato di accorrere per la prima volta nella casa del buon dio un cane sarà messo a seguire il corteo gli tirarono dei confetti ma lui seguito a trotterellare tra la gente la porta della chiesa era spalancata il prete un giovane ottone dai capelli rossi magro e forte un dentù anche lui zio del piccino e altro fratello del padre aspettava davanti all'altare battezzò secondo il rito e il nipote coi nomi di prosper cesar ma assaggiando il simbolico sale il neonato scoppiò a piangere alla fine della cerimonia la famiglia rimase sulla soglia della chiesa mentre il sacerdote si toglieva la cotta poi tutti si rimisero in cammino pensando al pranzo camminavano più svelti vi seguiva tutta la marmaglia del paese e ogni volta che le si gettava una manciata di confetti avveniva una mischia furiosa con lotte corpo a corpo e ciuffi di capelli strappati anche il cane si intrufolava nel parapiglia per raccattare qualche cosa tirato per la coda per le orecchie per le zampe ma più ostinato dei monelli la levatrice un po stanca si rivolse al sacerdote che ricamminava accanto scusatemi signor parroco mi dispiacerebbe prendere per un momentino vostro nipote mentre mi sgranchisco mi parte avere i crampi nella ventresca il prete prese il neonato che con la sua destina bianca formava una gran chiazza smagliante sulla tonaca nera gli dette un bacio ma poi non sapeva come tenerlo dove posarlo tutti si misero a ridere e una delle nonne chiese da lontano di un po su reverendo ti piacerebbe averne uno anche tu il sacerdote non rispose procedeva a grandi passi guardando fisso il marmocchietto dagli occhi azzurri tentato di baciarlo ancora sulle gote paffutelle non resse portandoselo al viso gli dette un lungo bacio il padre gridò e il parroco se ne vuoi uno non hai che da dirlo e tutti si misero a scherzare come fanno i contadini quando furono a tavola la pesante allegria contadinesca scoppiò come un temporale anche gli altri due figlioli erano in procinto di prendere moglie c'erano lì le fidanzate arrivate soltanto per il gran pranzo e gli invitati non finivano più di fare allusioni a tutte le future generazioni promesse da quelle unioni erano parole grosse molto sboccate che facevano sorridere arrossire le ragazze e sbellicare gli uomini i quali picchiavano i pugni sul tavolo e sbraitavano il padre e il nonno erano insuperabili nei discorsi salaci la madre sorrideva le vecchie partecipavano all'allegria e ogni tanto si lasciavano scappare qualche parola ardita il parroco avvezzo a quelle rustiche bisbocce non si scomponeva seduto vicino alla levatrice stuzzicava col dito la boccuccia del nipotino per farlo sorridere guardando il piccino pareva sorpreso come se non avesse mai visti altri lo considerava con un'attenzione meditabonda con una gravità pensosa con una tenerezza sconosciuta insolita viva e un po' triste scaturita dal suo cuore per quell'essere fragile che era figlio di suo fratello non udiva niente non vedeva niente contemplava il piccino aveva voglia di prenderselo ancora sulle ginocchia poiché conservava nel petto e nel cuore la dolce sensazione provata quando l'aveva portato poc'anzi al ritorno della chiesa si sentiva commosso davanti a quella larva d'uomo come davanti a un mistero ineffabile a cui non aveva mai pensato un mistero augusto e sacro l'incarnazione di una nuova anima il gran mistero della vita agli inizi dell'amore che si desta della razza che si perpetua dell'umanità che continua ininterrottamente la levatrice stava mangiando con la faccia infuocata agli occhi lucidi imbarazzata dalla creatura che la costringeva a tenersi discosta dalla tavola il parroco le disse fatelo tenere a me io non ho più fame e riprese il neonato da quel momento ogni cosa attorno a lui sparì rimaneva con gli occhi fissi su quella faccina rosa e paffuta a poco a poco il calore di quel corpicino attraverso le fasce e la stoffa della tonaca e arrivava sino alle gambe lo penetrava come una carezza lieve buonissima casta una deliziosa carezza che gli faceva spuntare le lacrime agli occhi il chiasso dei convitati diveniva fragoroso il piccolo disturbato da quel clamore si mise a piangere una voce gridò ehi parroco dagli la poppa e uno scroscio di risate scosse tutta la sala ma la madre si era alzata prese il piccino e lo portò nella stanza accanto tornò dopo qualche minuto dichiarando che stava già dormendo nella culla la festa continuò uomini e donne uscivano ogni tanto andando in fondo all'aia e poi tornavano a tavola carni verdura sidro e vino si inabissavano in quelle bocche gonfiavano i ventri accendevano gli sguardi facevano sragionare quando arrivarono al caffè era quasi notte il prete era sparito da un pezzo ma nessuno si era meravigliato della sua assenza la giovane madre si alzò per andare a vedere se il piccino dormiva era ormai buio e la entrò a tastoni nella stanza avanzava a braccia tese per non urtare contro i mobili ma un rumore inatteso la fece fermare di colpo e uscì sgomenta e sicura di aver sentito qualcuno che si muoveva pallidissima tremante tornò nella sala e racconta tutto i uomini si alzarono tumultuando brilli e minacciosi il padre si slanciò avanti con un lume in mano inginocchiato vicino alla culla il prete si inghiozzava con la fronte sul guanciale dove posava la testa del piccolo